Musica Allora, buonasera ai web spettatori di Nanotv, siamo da Rosso Pomodoro presso le porte di Napoli con noi Angela Zanvardino, Dario Iafosco, Santino Confetto, Paola Vitaglione Siamo qui per parlare del progetto Pizzatronic Dario Iafosco, responsabile del centro di abodorogia e pediatria della Stoppoloni Che cos'è Pizzatronic? Innanzitutto noi siamo qui molto emozionati perché lavoriamo con bambini per dimostrare che ciò che si dice in letteratura e cioè che la pizza in realtà è un alimento trash, un alimento spazzatura per i bambini con diabete non è vero e questo progetto nasce dalla collaborazione è un progetto aziendale dell'azienda Policlinico anzi approfitto per ringraziare il direttore generale e il professore Maurizio Di Mauro che ci ha aiutato molto nel supportare questo progetto stiamo lavorando in vivo quindi abbiamo preso dei bambini con diabete seguiti presso l'Università della Campania e stiamo provando a dare loro una pizza a breve e a lunga fermentazione come poi spiegherà naturalmente Angela che è l'ediatrice di questo progetto per andare a vedere l'effetto sulla glicemia dell'assunzione di questa pizza e dimostrare fondamentalmente che la pizza non è poi così difficile da gestire come soprattutto gli americani hanno detto negli ultimi tempi Allora un progetto che nasce in collaborazione con diversi enti Angela quali sono questi enti? Abbiamo dovuto lavorare su vari fronti sicuramente in primis abbiamo dovuto trovare l'ente Rosso Pomodoro ci ha supportato molto perché non è noto nel mondo che Rosso Pomodoro pratica la lenta di evitazione come suo marchio di produzione tutti pensano che essendo un franchising faccia una pizza dozzinale o comunque commerciale quindi noi insieme a loro abbiamo voluto valorizzare quello che è la tradizione napoletana perché noi napoletani lo sappiamo, lo sanno anche i pizzaioli che la pizza levitata lentamente è una pizza più salutare, più digeribile però quello che la tradizione dice non è dimostrato scientificamente ecco perché oltre a utilizzare le nostre conoscenze in diabetologia e quindi i nostri bambini affetti da diabete medito di tipo 1 abbiamo chiesto la collaborazione anche della facoltà di Agraria della Federico II che ci analizzerà gli impassi e le pizze Allora c'è anche in collaborazione con l'Isola che non c'è un'associazione ci parli di questa collaborazione? L'associazione l'Isola che non c'è è composta da genitori di bambini affetti da diabete di tipo 1 dal momento che questa sperimentazione è del tutto gratuita nel senso che non ha ricevuto finanziamenti da enti privati loro ci hanno supportato con tutto quello che serviva per esempio pagare le pizze, i prodotti che servono per i bambini il glucosprint per esempio Quindi stanno supportando un poco questa sperimentazione che poi si cala anche sui propri figli Esatto, sì, quindi proprio perché credono in noi, credono nel potere della ricerca Allora con Santino Confetto, invece volevo perché è un diabetologo pediatra quanti bambini sono affetti in percentuale nella nostra popolazione? Seguiamo circa 1000 bambini con diabete solo nella nostra facoltà si calcola che in tutta la Campania siano attualmente presenti 1500 casi di bambini con diabete sotto ai 18 anni perché poi se andiamo a guardare tutta la fascia i casi naturalmente sono molti molti di più noi consideriamo solo la fascia pediatrica perché poi questa sperimentazione potrà essere utile a tutti i casi di bambini o di ragazzi con diabete tipo 1 Insomma tutti quelli che fanno terapia insulinica intensificata Allora quali sono i consigli che possiamo dare ai genitori rispetto a questa problematica? Sul consumo di pizza in particolare diciamo che la pizza è ben noto che è un alimento difficile di gestione come diceva il professore Giafusco però perché è un alimento che a seconda della pizza secondo di come viene preparato presenta difficoltà diverse nella gestione quindi come lunghezza dell'alimentazione o quantità di carboidrati, lipidi e proteine che ci sono dentro e quindi avere sicuramente una ricetta nota come quella preparata dall'attoressa Zanfardino potrà essere molto utile nella gestione poi di questo alimento anche nella vita quotidiana di questi bambini Allora questa collaborazione con il Dipartimento di Agraria delle Università di Portici Paola Vitaglione Com'è nata questa idea e che cosa stai facendo? Allora noi ci occupiamo di scienza degli alimenti e quindi il nostro ruolo nel progetto sarà quello di analizzare le pizze prodotte come è stato detto in maniera diversa in maniera tale da poter associare i dati chimici relativi alla digeribilità con quelli che poi si riscontreranno con i dati raccolti in vivo in questi bambini che mangeranno con le pizze quindi cosa possiamo aggiungere? Che sicuramente il progetto è un progetto che è molto importante perché per la prima volta permetterà di collegare i dati chimici quindi sul prodotto con dati raccolti in bambini che hanno una problematica e quindi speriamo che potranno essere utili per poter dare a questi bambini la possibilità di gestire nutrizionalmente un prodotto come la pizza che è tanto amato da noi napoletani e ancora di più dai bambini Certo, facciamo in modo che anche i giovani bambini diabetici non debbano rinunciare alla pizza Allora, dottor Iafosco, cosa possiamo aggiungere? Questo è un progetto che si è distinto in due fasi una fase è già lo scorso 14 marzo e una stasera che tra poco partirà Stiamo andando avanti esattamente da un anno perché la prima volta abbiamo provato l'esperimento con un gruppo ridotto di bambini proprio per capire se potevamo andare avanti se potevamo poi procedere con l'esperimento vero e proprio L'esperimento vero e proprio invece si sta svolgendo adesso mercoledì scorso ed oggi e anzi, devo dire che veramente forse solo a Napoli poteva essere organizzata una cosa del genere perché stiamo facendo un esperimento clinico quindi con mamme che ci aiutano in questo cioè si supportano a questo punto ci offrono i loro bambini che in qualche modo stanno provando questa pizza in maniera tale che noi possiamo a questo punto gestire e tra l'altro volevo anche dire che è supportato naturalmente dal comitato etico della nostra azienda che ha dovuto in qualche modo fare in modo che questo progetto potesse andare avanti e penso che grazie alla collaborazione tra medici tra sicuramente le mamme e i bambini e tutto ciò che c'è intorno naturalmente a questa cosa le istituzioni sicuramente spero che potremo fornire dei risultati che saranno sicuramente molto interessanti e molto importanti per la gestione del diabete di questi bambini di tutte le fasce di età certo diceva Santino soprattutto nei bambini noi partiamo dai bambini ma è chiaro che ciò che andrà bene con i bambini andrà bene sicuramente anche con gli adulti quindi daremo dei consigli alla fine sulla gestione di quest'alimento che rappresenta naturalmente il centro delle nostre tradizioni Allora in chiusura una battuta ancora con la dottoressa Zanfarty come avete gestito questo incontro con i bambini con la pizza La cosa importante è che questi bambini utilizzano uno strumento molto innovativo che si chiama microinflusore per insulina che è uno strumento che oltre a infondere l'insulina in continuo permette di misurare la glicemia in continuo quindi noi stasera a distanza anche a casa nostra loro andranno a casa dopo la pizza vedremo come vanno le glicemie fino alle 6 del mattino perché l'esperimento inizia adesso ma si concluderà domani alle 6 perché vogliamo vedere dopo il consumo ma anche durante la notte cosa succede perché quello che deve essere chiaro è che una pizza che non è lievitata bene è una pizza non digerita bene non digeribile quindi all'inizio i bambini potrebbero avere delle gravi ipoglicemie perché non riescono ad assorbirla ma stanotte potrebbero avere le glicemie molto elevate proprio perché oggi si consuma la pizza a rapida lievitazione quello che non è successo invece la settimana scorsa la settimana scorsa hanno mangiato quella lenta lievitazione e sono andati benissimo hanno avuto delle glicemie perfette per tutta la notte quindi noi incrociamo le dita per oggi perché deve andare come vogliamo per dimostrare per la prima volta al mondo che la pizza napoletana con una ricetta classica lentamente ed editata è una pizza sana non è una pizza cattiva come pensano in altre parti del mondo benissimo io penso che possiamo chiudere qui questo nostro incontro vi ringrazio per il tempo che ci avete concesso vi ringrazio per questo progetto di pizza tronica a nome di tutti i bambini diabetici e da mano di più è tutto buonasera